Della Valdoni Milo Tortini, che va a concludere la prima posizione di Dottor Prado, 48 primi e 19 secondi, in la ritorno di 18 finale. Complimenti, la prima, un saluto a tutti voi. Ciao a tutti, bellissima messagana, correte tutti. Grazie, ciao, complimenti. Ciao. La prima donna, primo arrivo, Round 5.